Il tormentone per tutta la cena questa sera perché andiamo a suonare un brano dal titolo Why, potete immaginare quindi tutta la cena perché? Perché è Why, Why, perché? No, Why è un bellissimo brano di Filippo e che pochi sanno che in effetti è stato registrato in un bellissimo disco di Michel con il quartetto d'archi, per cui dedicato a tutti voi Why. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti